Ecco, attendiamo il secondo passaggio della prima gara. Due atleti. Ecco il primo gruppo, gruppo sfilato in fila indiana che insegue. Avranno una ventina di secondi dei tre fuggitivi. Questo è il secondo passaggio nella prima gara. Dio della campana. Qui abbiamo... Questa è la cosa di... La corta tecnica. Ecco, come mi sembra il gruppo ancora compatto. Gruppo ancora compatto, sfilato in fila indiana. Vai, c'è! Vai! Vai, c'è! Ecco, in quadro da molto lontano la macchina inizio corsa. Ecco il giro della campana anche per loro qui. Queste fanno giro alla campana. Invece la prima gara ce l'arrivo subito dopo. Ecco la scorta tecnica. Guardiamo, c'erano tre atleti in fuga nel giro precedente. Guardiamo. Ancora, 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 ancora tre atleti in fuga. Ecco il gruppo, il gruppo sfilato in fila indiana che segue avranno. Venti secondi. Venti secondi dei fuggitivi. Ecco, mancano pochi minuti alla conclusione della prima gara. Tre uomini sono andati in fuga sin dal primo giro. No! No! L'arrivo... L'arrivo... ...